Poi cerca l'assist per Verdi, lo stop di Verdi in area, se la mette sul sinistro, cerca lo spazio per calciare e arriva il poker del Bologna con Verdi. Deviazione decisiva ancora, mi è sembrato Danilo, ma il gol è di Verdi, è 4-0 per il Bologna. Al 23esimo, punto esclamativo sulla vittoria, vediamo conclusione, è Danilo che la mette nella sua porta con un colpo di testa davvero attaccante, ma la porta è quella sbagliata.